Io mi chiamo Francesco Lolli, vengo da Maglie, provincia di Lecce, dalla Puglia. Io adesso sono un esotato, un tecnico della Telecomo, ex tecnico della Telecomo. Col passare del tempo i denti si sono usurati e l'ho perso. E navigando per caso su internet ho trovato il vostro sito e poi ho preso delle informazioni e mi sono trovato bene. Benissimo, anzi il massimo di quello che avevo sentito dire dagli altri che erano venuti prima di me. Ho fatto tre interventi con tre viaggi diversi e adesso mi trovo benissimo. Sono soddisfatto di essere venuto qua e parlerei bene, come hanno parlato gli altri prima di me, bene. Parlerei molto bene. Ciao, a presto.